Waker, come no, si è bellissimo. Dragon Roost Island. No, 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 quella è bellissima. La sonata di Zelda. La sonata di Zelda normale. Oh, oddio, oddio. Quanti ricommiamo a questa musica che accetta... Hà canimenti, ovvero dal Cap? ciao il dvd ea ea il 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 non è la vera per l'abba la scuola cosa costruite iniziali assomiglia per l'asso della costa il giudogno per te per un amico non si vedeva ok ieri 3 partiamo qualcuno porta al piano la città da gioco la portata ma questo non soggiorno la testa da stanno stupendo no se piove davvero stasera ti picchiamo però ahahah 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 questo film adesso vediamo se il film riconoscere qualcosa profondo rosso ahahah 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 io ho tutto fatto ahahah ahahah è tutta roba cosa sopra non lo fai quella di ross di perfect art no basta questa la riconoscete subito cosa fare sono il piccosti il primo stacchetto oh ah 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 per agon ah ah Grazie a tutti. Grazie a tutti.